Ore 11, 2 settembre 2024, comincia qui la terza stagione della versione di Ivan e dico che sono le 11 perché questa è la principale novità di questa stagione, di questo podcast, saremo online tutti i giorni dal lunedì al venerdì, sempre alla stessa ora, alle ore 11 per darvi una storia raccontata naturalmente dal mio punto di vista. E oggi cominciamo con una storia molto importante, secondo me molto grave, che è la vittoria dell'estrema destra neonazista in due importanti regioni, due lender della Germania, la Turinja e la Sassonia, un fatto politico io credo molto grave che mette la politica europea davanti a un bivio, davanti a una scelta, quella di distinguere tra i partiti che tengono la democrazia, le nostre libertà, le nostre garanzie e i partiti che invece guardano alle autocrazie di tutto il mondo e che non hanno in nessun apprezzamento la nostra libertà. Ed è proprio di questo che voglio parlarvi oggi, che è appunto il 2 settembre 2024, io sono Ivan Scalfarotto, questa è la versione di Ivan e noi andiamo a incominciare. Io sono Ivan Scalfarotto e questa è la versione di Ivan, una storia al giorno, da lunedì al venerdì, rigorosamente dal mio punto di vista. Si sa che il mese di agosto ha la caratteristica di essere il più rapido dell'anno e così sembra ieri, ci siamo lasciati il 31 di luglio con la promessa di ritrovarci il 2 di settembre ed eccoci qui appunto, 2 settembre 2024, a cominciare la terza stagione della versione di Ivan, questo mio podcast che ormai è arrivato a 389 episodi e quello di oggi e spero di ritrovarvi in tanti, spero di ritrovarvi tra l'altro un pochino più rilassati, un pochino più riposati, spero che siate riusciti a fare qualche giorno di vacanza, ad andare magari in qualche bel posto da visitare o anche semplicemente ad andare in un posto dove poter leggere qualche buon libro. Insomma ricominciamo con un'estate alle spalle nella quale sono successe tante cose, forse un po' meno riguardo alla politica italiana di quanto ne succedano durante l'anno perché sapete che la politica, come questo podcast, va in ferie o comunque si prende un certo periodo di pausa proprio durante le giornate agostane ma insomma avremo occasione, io credo, nei prossimi episodi di ritornare su alcune questioni che ci hanno occupato durante l'estate però oggi voglio cominciare con un fatto politico proprio di queste ore che mi sembra enorme e che io credo richieda una qualche riflessione che è l'esito delle elezioni locali che si sono tenute ieri in Germania, in Turinja e in Sassonia elezioni che hanno dato un esito secondo me davvero inquietante, davvero angosciante e chiedo scusa se utilizzo parole così importanti, così pesanti, poi parole che hanno a che fare diciamo così col sentimento che spesso con la politica non c'entra e invece in questo caso io penso che di questo risultato elettorale dobbiamo proprio prendere atto con una certa preoccupazione con una notevole preoccupazione perché in quei due Lander e in particolare in Turinja c'è stata una vittoria nettissima del partito che si chiama Alternative für Deutschland quindi Alternativa per la Germania che è un partito di estrema destra e soprattutto in Turinja il leader di AfD che si chiama Björn Höcke è un signore veramente poco raccomandabile per darvi un'idea questo Höcke è stato multato credo un paio di volte già anche con delle multe considerevoli parliamo di qualche decina di migliaia di euro per aver utilizzato nei suoi comizi degli slogan nazisti Höcke è uno che per dire quando è stato costruito il monumento che c'è nel centro di Berlino quello per le vittime ebree uccise durante la seconda guerra mondiale dai nazisti in tutta Europa ha detto noi siamo gli unici al mondo ad aver piazzato un monumento alla vergogna nel cuore della nostra capitale e un tribunale tedesco aveva assolto delle persone che gli avevano dato del fascista insomma tanto per intenderci e dunque la vittoria di un personaggio di questo genere in una regione come la Turinja che è una regione che sta proprio nel cuore della Germania se guardate la cartina anche fisicamente la Turinja è proprio nel centro perché è uno dei lender che faceva parte della Germania democratica della Germania comunista ma è uno di quelli più occidentali non può non preoccupare innanzitutto perché fa veramente venire la pelle d'oca l'idea che un terzo degli abitanti di quella regione possano riconoscersi in qualcuno che non si distingue, non si distanzia da un fenomeno come il nazismo che è stata una macchina di morte perché il punto è proprio questo il nazismo è stato un regime che ha bruciato i libri è stato un regime che ha ammazzato sistematicamente gli oppositori politici che ha creato una macchina ingegneristicamente perfetta per l'eliminazione di milioni di persone che ha imposto una identificazione tra l'essere tedeschi e l'essere nazisti che si è quindi tramutata in una sorta di culto, di religione basata su una sistematica soppressione appunto dell'avversario politico di persone considerate non degne di vivere una ideologia malata, criminale e che un terzo degli abitanti della Turinja e più o meno della Sassonia siamo lì perché in Sassonia comunque AFD ha preso il 30% dei voti arrivando seconda per un'incollatura rispetto alla CDU ecco è una cosa che inquieta è inquieta che questo accada nel cuore di un paese importante, influente, ricco, potente come la Germania perché ovviamente abbiamo una storia alle spalle e questa storia ci racconta di quello che è successo cento anni fa da quelle parti anzi fu proprio in Turinja che il governo locale fu il primo a dare un appoggio ai nazionalsocialisti e ai nazisti di Hitler quindi questo ricorrere della storia visto che la storia la conosciamo naturalmente fa abbastanza accapponare la pelle e poi è ovvio che questo risultato elettorale introduce un elemento di debolezza nella democrazia tedesca anche perché l'altra vincitrice di queste elezioni locali che davvero avrà poi porterà a casa un risultato perché comunque i partiti tradizionali diciamo la sinistra tradizionale è andata malissima ma la CDU che ha un po' il boccino in mano dice che non farà accordi con la FD ma sarà costretta a fare accordi invece con Sara Wagenknecht che ha fondato soltanto pochi mesi fa un partito di sinistra proprio personalistico che si chiama come lei su posizioni che sono di sinistra dal punto di vista diciamo così economico dal punto di vista sociale ma che sono di estrema destra possiamo dire dal punto di vista invece di quelli che sono i messaggi del populismo a partire da una vicinanza diciamo così da un essere considerata filoputiniana quindi è anche naturalmente scettica rispetto all'appoggio all'Ucraina ma poi anche per esempio sul tutto il tema dei migranti ha posizioni di destra e di destra estrema diciamo così paragonabili a quelle che in Italia avrebbe la Lega ecco diciamo che è una persona di sinistra per certe questioni ma che introduce rispetto alla collocazione internazionale della Germania degli elementi di grande inquietudine insomma possiamo dire che Vladimir Putin ieri ha brindato sicuramente guardando quelli che sono stati i risultati elettorali tedeschi né più né meno come in Italia ha brindato soprattutto Matteo Salvini ora considerato anche che in Francia la presidenza di Macron sta vivendo momenti di difficoltà sappiamo che in Francia il governo ancora non si è formato il rischio che tra qualche anno ci si trovi Meloni a governare in Italia a FD in Germania e Le Pen in Francia è un rischio che va scongiurato assolutamente io credo che la politica debba prendere atto di questo segnale d'allarme non sottovalutarlo arrivare subito a delle misure tenuto conto che a questo punto bisogna distinguere le forze politiche tra quelle che sostengono le democrazie occidentali lo Stato di diritto e quelle che invece guardano a Putin e le autocrazie io mi fermo qui noi ci sentiamo domani avete ascoltato la versione di Ivan un podcast di Ivan Scalfarotto ispirato dall'omonimo libro edito dalla nave di Teseo Grazie a tutti